Il progetto del nuovo ospedale pediatrico Salesi comincia a trasformarsi in realtà. È stato pubblicato infatti il bando di gara che consentirà di passare dalle parole ai fatti. Ce ne parla il presidente della Regione Marche, Luca Ceriscioli. La prima cosa, la concretezza di un bando di gara che è uscito sulla gazzetta ufficiale italiana ed europea dopo un percorso lunghissimo. Tre anni fa sembrava che fosse tutto pronto, ci siamo accorti che non c'erano i fondi, non c'erano i progetti, non c'era praticamente nulla. C'era solo il bisogno di realizzare una struttura di grande qualità per l'unico ospedale pediatrico delle Marche ma in realtà uno dei pochi ospedali pediatrici italiani. Un vaccino di riferimento enorme, una risposta a tanti genitori, tanti bambini, non solo delle Marche ma anche delle regioni vicine che potranno contare oltre su un contenuto che già oggi è forte perché negli anni abbiamo rinnovato i primari, le tecnologie e continueremo a investire sulla struttura attuale ma potrà contare su uno spazio nuovo di grandissima qualità in grado di esaltare i servizi, di farli in collegamento e in connessione con la struttura di Torrette ma in perfetta autonomia e identificabilità proprio perché il percorso del bambino resta un percorso speciale, tutto suo. Con la gara affidiamo alle nostre strutture tutto il cammino finale. Uno dei punti qualificanti di ribasso sarà anche ribasso nei tempi. Sono stati messi i tempi massimi, noi contiamo che un'impresa organizzata possa realizzare lo stesso lavoro anche in tempi più stretti, quello lo vedremo con la prosegua. È chiaro che abbiamo compiuto tutto quello che potevamo fare, dovevamo fare per mettere in condizioni oggi di lasciare i tempi alla realizzazione. Poi si sa, dentro la realizzazione abbiamo i ricorsi, abbiamo tutto quello che cade in questo Paese e noi speriamo che tutto vada per il meglio, sicuro di aver fatto un buon lavoro di grande qualità in termini di preparazione di questo percorso. Complessivamente sono 56 milioni di euro il contenuto della gara d'appalto, i tempi previsti oggi sono circa di tre anni e la cosa importante è che accompagnare questo percorso sia una riqualificazione complessiva dell'offerta. Non ci occuperemo solo del nuovo edificio ma di tutte le interferenze, tutto quello che c'è attorno, in modo che questa nuova realtà sia in perfetta connessione con quello che c'è oggi ma in grado di avere attorno a sé tutti i servizi adeguati. Era un punto molto delicato del processo, non è facile intervenire in uno spazio già occupato e credo sia stato importante fare un lavoro di grande qualità da questo punto di vista.